Fox Sports è la casa della pallavolo europea Fox Sports è la casa della pallavolo europea Infatti, i diritti per trasmettere la CE Champions League femminile per due stagioni, fino al 2019. . . La squadra campione d'Italia femminile, la Igor Gorgonzola Novara dell'icona Francesca Piccinini, inizierà la sua avventura europea direttamente dalla fase a gironi che scatterà a dicembre mentre la EMOC Volley Conegliano sarà protagonista su Fox Sports già il 17 ottobre nella gara di andata dei preliminari contro le ungheresi del beckesks a Bayer e o con di Eresi Club da Sport. . 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